Oggi vi devo ringraziare perché il progetto Twitch è partito benissimo Solo nella giornata di ieri abbiamo registrato più di mille nuovi iscritti Ragazzi è tantissimo e questo ci fa capire come la nostra community sia così bella e forte E come ognuno di voi contribuisca giorno per giorno a renderla migliore Non sapete che grande soddisfazione è per Federic Quindi ragazzi se ancora non mi avete followato su Twitch, non mi avete seguito Mi raccomando fatelo perché le shiny hunting di Let's Go Pikachu e Eevee arriveranno solo su Twitch E ogni tanto anche su YouTube ma per la maggior parte del tempo su Twitch Quindi raga il link è qua sotto in descrizione ma potete cercarmi mi chiamo Federic Mi raccomando però importantissimo assicuratevi di aver attivato le notifiche delle live Così che quando sarò in live a meno vi arriva subito la notifica sul vostro telefono Ricordo inoltre che le live inizieranno dal 3 gennaio 2019 alle ore 19.30 Segnatevi questa data sul vostro telefono mettetevi la sveglia perché ci dovete essere tutti Dobbiamo infrangere ogni record della community Pokémon Io vi aspetto Allora su Twitch ovviamente non faremo solo quello faremo anche scambi con tutti voi Faremo delle serie tipo Nuzlocke, Randomizer A volte porteremo anche altri giochi perché no? Mamma mia vedrete Innanzitutto però vi chiedo di iscrivervi al canale perché siamo quasi 400.000 ragazzi manca pochissimo Oggi faremo un sacco di cose extra Non volevo farci dei video ragazzi a parte perché sarebbero venuti video dei 3-4 minuti Quindi in questo video è racchiuso un po' il tutto che mi avete richiesto in questi mesi Quindi ragazzi sicuramente vi mostrerò dove ottenere tutte le mega pietre in questo gioco Poi vi mostrerò due leggendari veramente fantastici shiny E in più vi mostrerò come ottenere ogni giorno tantissime squame cuore Che me l'avete richiesto anche questo Quindi partiamo subito Bentornati in un nuovo episodio nella mia guida a Let's Go Pikachu e Eevee Allora ragazzi siamo qui alla Lega Pokémon Sono pronto per rivedere questi super leggendari che mi ha scambiato uno di voi Negli scambi che abbiamo fatto due giorni fa come esperimento Perché volevo fare questo esperimento che poi porteremo su Twitch L'esperimento è andato veramente top del top Vado in squadra vi faccio vedere che mi hanno dato Moltres e Zapdos shiny ragazzi E volevo fare un video apposito proprio per mostrarvi i primi leggendari shiny Perché nella mia guida non ve li ho mai mostrati E vi ho mostrato soltanto effettivamente Pokémon shiny Guardate ragazzi quanti ne abbiamo Nel video di ieri li ho un po' mascherati a dire la verità Eh sì li ho un po' nascosti Furbacchione Federic Però sono talmente speciali che volevo farci un video dedicato Abbiamo un bellissimo Moltres shiny ragazzi Che sembra che è entrato nel forno Perché è arrostito, è tutto rosa Vabbè E mi è stato mandato da Frank95 Ita Veramente un grande La provenienza ovviamente da Pokémon Go è stato catturato nel Go Park Quindi non è originale di Let's Go Pikachu e Eevee Ma è comunque fantastico Con Atta Kudala, Lancia Fiamme, Turbo Fuoco e Etre Lama Anche abbastanza buono con più velocità meno difesa speciale Forse la difesa speciale non doveva calare ma Vabbè potevano magari fare meno attacco più velocità Così poteva andare bene Poi abbiamo un bellissimo ragazzi Zapdos Che non cambia molto nella sua versione shiny Come potete vedere sembra un Zapdos normale Anzi dato che io posso farlo magari Vi faccio vedere proprio la differenza Perché io di Zapdos dovrei averne due Infatti lo aggiungiamo alla squadra Così vi faccio vedere la differenza Questo è il Zapdos normale Vedete Quello shiny aumenta un po' la saturazione Semplicemente ragazzi Vedete L'aumenta di poco L Quindi è veramente grande questo Zapdos Con schermo luce 3, sprofulmine e per forbecco Ragazzi con più difesa speciale meno attacco Questo potrebbe Potrebbe essere abbastanza buono Con più difesa speciale Comunque A parte questo Grazie Frank veramente per gli scambi Ma ringrazio tutti quelli che mi hanno scambiato di shiny Nella giornata dell'altro ieri E adesso ve li faccio vedere anche fuori dalla bolla Guardate ragazzi che spettacolo Bello Eh Guardate che spettacolo questo Moltres shiny Raga io vi giuro È troppo Ma veramente troppo Troppo Bello Beh è spettacolare ragazzi Poi a me Moltres shiny personalmente È il leggendario Eh di terza generazione Che mi piace di più in versione shiny So che può sembrare strano ma rosa così ragazzi è veramente figo Spettacolare Andiamo a vedere invece Zapdos Una cosa che potevano mettere gli editor di questi giochi Magari mettere delle stelline quando i pokemon escono dalle ball Perché vedete non hanno stelline Zapdos ragazzi non mi piace perché non cambia assolutamente nulla dalla sua versione precedente Infatti vi farò vedere che questo è lo Zapdos shiny Che aumenta la saturazione praticamente del becco e delle zampe E questo ragazzi invece è quello normale ma come potete vedere cambia ben poco Ecco questo sembra più shiny dell'altro praticamente ecco Bellissimi due leggendari ragazzi che volevo tantissimo tra l'altro Sarà difficile ottenere Mewtwo e Artiguno Ma magari con gli scambi con voi su Twitch sarà tutto diverso Quindi ragazzi fatto ciò io me ne volo col mio bel Charizard E vi faccio vedere come ottenere le mega evoluzioni Eh che voi siete curiosi vero? Le mega evoluzioni ragazzi le otterrete durante il gioco Almeno quelle di Charizard, Blasto e Sebenusaur Ve le darà il Professor Rock durante la vostra avventura Prima di battere l'ultima palestra Quindi quella ragazzi la prenderete per forza di cose Nemmeno me ne accoggerete magari ma l'avrete già Per prendere le altre ragazzi vi basterà parlare con questo tipo qua Oh ma sbaglio tu sei il campione Infatti ragazzi questo qua sarà specializzato in mega piede Potremmo comprare la bidrillite, pigiottite, alagazzamite, slobolite, gengarite, kangaskanite, pinsirite E vabbè basta avete capito? Ne ha un bel po' questo E possiamo effettivamente comprarle Ecco io adesso magari posso comprarvene che ne so una Però ragazzi costa 30.000 E dato che devo farvi il video della corona Io non sprecherei i miei soldi adesso tanto non mi serve E sono arrivato a 420.000 poche dollari con il trucco dei due Persian Vi lascio il video guida nelle schede se ve lo siete perso Ora ragazzi facciamo volo Raggiungiamo le isole sfumarine perché vi faccio vedere come ottenere appunto facilmente Non le coccole ok Le squame cuore ragazzi Ci sono dei punti un po' particolari delle isole sfumarine che vi saranno molto d'aiuto per ottenerle Perché non è che sponano in determinati punti ragazzi Sono random Ok ci sono determinati punti ma non è detto che in quel punto troverete la squame cuore Tenete veramente una cosa E questa è una cosa anche abbastanza ma veramente abbastanza importante Che dovete vedere tanto 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 la coda di Pikachu quando si muove In quel caso vi sarà veramente tanto tanto d'aiuto Allora da che parte entriamo io direi di entrare da questa parte nelle isole sfumarine Sì ragazzi perché non mi andava di farvi un video a parte dove vi dicevo Eh ragazzi oggi vi faccio vedere dove sono le scome cuore ok Ci metto 3 minuti a farvelo vedere Questo è il senso Quindi ve lo faccio in questo video insieme alle megapietre Comunque siamo intanto qua dentro Io direi di utilizzare un repellente così che almeno evitiamo i pokemon E tra l'altro io ragazzi da questa parte delle isole sfumarine ancora non sono entrato Perché nella mia guida questa parte delle isole l'ho tralasciata Perché mi avete scritto nei commenti che poteva risultare noioso Quindi ho un po' di strumenti da raccogliere anche da questa parte come potete vedere Comunque 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 Dove si trovano queste squame cuore ragazzi? Qua c'è un punto Vedete? Questi sono dei sassi e qui praticamente potete trovare delle squame cuore Ora praticamente non ci sono Quindi io cercherei magari la squame cuore così vi faccio vedere esattamente dove si trova Intanto per precauzione ragazzi io butto giù questi Così che almeno mi porto avanti per scendere e farvi vedere tutti i punti Tranquilli che il mio Moltres comunque non sente freddo eh Si scalda per benino qua dentro anzi fa sciogliere tutto Ma io questi strumenti ragazzi li devo prendere Pozione max Va bene Ecco questi sono altri punti dove poter ottenere le squame cuore ragazzi Questi sassi qua Ora ovviamente non c'è niente ma ripeto dovete essere fortunati E passare ogni giorno a controllare appunto i sassi Dovrebbero trovarsi proprio lì E potete farmarne tantissime raga Questo è un altro punto dove si possono trovare appunto le squame cuore Qui dovrebbe esserci un altro punto vedete ragazzi proprio qua Vediamo se c'è una squame cuore vediamo Ehi Squame cuore ecco avete visto che c'è nel punto preciso Ecco qua Ora qui l'abbiamo ottenuta Se tornate dopo 24 ore e siete fortunati ne potete trovare un'altra Ok ragazzi mi raccomando dovete controllare tutti questi sassi qua Ne trovate proprio in mezzo ai sassi le squame cuore Ah ecco io ho anche ottenuto gelo raggio quindi perfetto Vediamo qua se c'è un'altra No qua troviamo una perla invece Le squame cuore raga è inutile che io ve lo dica Cioè sono strautili Utilissime Veramente Vediamo qua ragazzi se c'è altro Vediamo Revitalizzante No c'è andata male Perché non è che ragazzi che spawnano sempre le squame cuore comunque Comunque ragazzi spero che abbiate capito come ottenerle Io qua non ne trovo altre praticamente Ma dobbiamo essere fortunati Veramente fortunati E comunque io ancora non capisco il senso Di tenere L'esperto dragonair nella grotta gelata Cioè voglio dire è un dragonair Soffre il ghiaccio Lo metti nella grotta gelata Mi pare anche logico Vabbè Magari scendiamo ancora Vediamo se ci sono altri punti Ecco qui è un altro punto ragazzi dove potete ottenerla Per esempio Abbiamo ottenuto una piuma bella però Continuiamo a cercare E niente ragazzi spero che questo breve episodio Vi sia stato d'aiuto Ci teneremo particolarmente a farvi vedere Questi super leggendari Se volete le squame cuore Ora sapete come fare Vi trasferisco un like Un commento Iscrivervi al canale E nulla Penso che nelle prossime guide ragazzi Vi mostrerò le mt Qualche allenatore esperto Dopodichè Abbiamo finito Non so veramente cosa altro portarvi Su Let's Go Pikachu Se non su Twitch E potrei portarvi Se vi va magari una Wi-Fi battle Magari ragazzi Vi do il codice E uno di questi giorni Ci mettiamo a lottare Faccio qualche video di Wi-Fi battle Ok ma poi comunque Non ci sarà nient'altro da fare Perché comunque Il gioco termina qui Io vi ringrazio E ci vediamo Al prossimo video Guida Dai che poi ragazzi Torneranno i soliti video Anche Mystery Box E a gennaio nuove serie Preparatevi Preparatevi Ciao E al prossimo video